Frana nella notte a Maccagno, un pezzo di montagna precipita a valle, invadendo strada statale e ferrovia e urtando un treno, tecnici al lavoro dalla notte scorsa. Intervista al presidente di Confartigianato Sicilia, Giuseppe Pezzati, reduce dalla manifestazione di ieri a Milano, solo le infrastrutture possono unire il paese e rilanciarlo. Inaugurato a busto il rinnovato parcheggio di Via Rovereto, 270 posti gratuiti che si aggiungono ai 500 in zona stazione. A Varese domani l'apertura dei primi due piani del Sempione. Silenzio stampa dei giocatori, allenamento in sciopero e due capi Berni e Benecchi che la vedono in modo diverso, il Varese Calcio non naviga in buone acque per usare un eufemismo. Buonasera, ben ritrovati con la nostra informazione. Spettacolare frana a Maccagno, molti danni ma fortunatamente nessun ferito. È accaduto la notte scorsa intorno alle 2 a Maccagno. 4 metri cubi di roccia si sono staccati dalla parete sovrastante la martoriata statale 394 e sono precipitate a valle, riversandosi sulla strada e sulla linea ferroviaria e urtando un treno merci che proprio in quel momento stava transitando. Sul posto si sono subito portati vigili del fuoco e tecnici ANAS insieme al personale della rete ferroviaria. Al momento il materiale è stato rimosso ma statale e ferroviaria risultano impraticabili creando molti disagi alla circolazione. Torniamo a parlare della questione Sintia Gallarate. Oggi l'udienza al Tribunale di Busto Arsizio. Il giudice ha dichiarato di voler analizzare dettagliatamente tutta la documentazione prodotta dalle parti prima di arrivare a una decisione finale. Decisione che potrebbe già arrivare nelle prossime ore. Cambiamo pagina. Le divisioni tra 5 Stelle e Lega riflettono anche le divisioni del sistema paese. Lo dice a rete 55 Giuseppe Petazzi, presidente di Confartigianato Sicilia, tra i protagonisti della manifestazione di ieri a Milano. Vediamo il servizio. Giuseppe Pezzatti guida la Confartigianato Sicilia, quindi di strada ne ha macinata un bel po' con le infrastrutture che ci sono, perché quelle che ancora devono venire le stanno auspicando molti dei partecipanti a questo incontro. Perché ha voluto essere presente? Innanzitutto perché faccio parte di una categoria che è il tessuto dell'economia nazionale, cioè le piccole imprese, gli artigiani, le micro imprese, dove in effetti nello sviluppo delle micro imprese si vede lo sviluppo del paese. Sono importanti tutte le opere. Perché? Perché le nostre merci del valore dell'artigiano devono viaggiare con estrema elasticità e se dobbiamo pensare anche a uno sviluppo verso le altre parti dei paesi, che non sono soltanto quelle italiane, quindi per uno sviluppo all'estero, dobbiamo anche pensare a come arrivarci. E quindi per noi diventa di fondamentale importanza non dividere l'Italia su due velocità, anche perché già l'Italia è penalizzata rispetto al resto dell'Europa sulla stessa indicazione di velocità che in qualche modo ci viene nel farino di coda. Però quello del sì è proprio un movimento che nel nostro interno è dire ci siamo, le piccole aziende funzionano e devono andare avanti con uno sviluppo progettuale. Si tratta di capire qual è il reale termometro di un governo che per metà, cioè per la metà gialla, grillina, sembra allergico al termine infrastrutture, vediamo ancora i sussulti sulla TAV e su altro. Per l'altra metà quella leghista promette di impegnarsi in tal senso attraverso i suoi amministratori locali qui, lo ha sempre detto, ma evidentemente fatica a imporre la propria voce. Questa è proprio la santa fotografia di un'Italia, di un'Italia che in qualche modo vorrebbe sviluppo, vorrebbe andare avanti, però è incartata sulle stesse loro problematiche. Ci sono sicuramente problemi generali che vanno affrontati nei giusti tavoli, però c'è un problema che è concreto, che è quello dello sviluppo delle imprese. Se si capisce e si destina un importo tale da poter sviluppare infrastrutture, collegamenti, strade, autostrade, porti, interporti, allora si capisce che si fa qualcosa per il nostro paese, al di là se vengo dalla Sicilia o arrivo dal Piemonte. Ed è il motivo per cui siamo qua uniti a dire che l'Italia è unica. L'Italia è importante, è importante per chi vive l'Italia, ma è importante anche come noi ci presentiamo dal resto del mondo. E sicuramente in questo momento di incertezza anche politica non facciamo una bella figura. Un convegno per parlare di tumori infantili, quello organizzato da ASST 7 Laghi a Varese, che ha visto la partecipazione di numerosi professionisti. Vediamo il servizio. La brutta notizia è che tra i tumori più frequenti in età pediatrica e adolescenziale c'è il linfoma non Hodgkin. Quella buona è che nei bambini e nei ragazzi di età compresa tra i 2 e i 20 anni le probabilità di guarigione da questa malattia sono oggi superiori al 70%, anche grazie a un nuovo trattamento sperimentale e una terapia genica che ha potenziato il sistema immunitario. Fondamentale è la diagnosi precoce della patologia. Se ne è parlato nell'aula magna del Collegio Carlo Cattaneo dell'Università dell'Insubre a Varese, nel convegno dedicato, organizzato dalla SST dei 7 Laghi. L'infoma non Hodgkin è una patologia che, se diagnosticata in maniera tempestiva e se trattata in maniera corretta, può arrivare a una guarigione completa e definitiva nella maggior parte dei casi. I protocolli attuali permettono di arrivare a una guarigione in più dell'80% dei pazienti, in linea generale. Il problema sono i soggetti che ricadono, che quindi vanno incontro a una ripresentazione della malattia, dove invece i risultati sono ancora non soddisfacenti. Per questo è importante partire col piede giusto, arrivare a una diagnosi tempestiva, precoce, corretta, il più precisa possibile. Successo oltre ogni aspettativa per la notte folle di Cittiglio. Ancora una volta l'ospedale del Verbano ha accolto una serata senza barriere, senza pregiudizio, senza paracadute, con i pazienti della psichiatria a gomito a gomito con gli ospiti, la cittadinanza cosiddetta normale. In un clima di festa, a triunfare è stata la solidarietà e la vicinanza a persone fragili che ritrovano gioia ed entusiasmo grazie all'arte, alla cultura, all'aggregazione. Grande merito a Isidoro Cioffi, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e artefice ormai da anni di questa pregevole iniziativa, che ieri si avvalsa della collaborazione del Rotary Lago Maggiore e dell'Accademia Musicale Sant'Agostino. Inaugurato a Busto Orsizio il nuovo parcheggio di Via Rovereto, 270 posti gratuiti che si aggiungono ai 500 in zona stazione. A Varese domani l'apertura dei primi due piani del Sempione. Promessa mantenuta a Busto Orsizio con l'inaugurazione del parcheggio di Via Rovereto. 270 posti auto a costo zero che si sommano ai 500 di Viale Venezia in zona stazione. Qua c'era tutta terra, era un parcheggio che era inutilizzabile quando pioveva, erano anni che il quartiere lo chiedeva e le avevamo promesse, l'abbiamo fatto e è venuto anche bene secondo me. Oltretutto abbiamo fatto il lavoro di demolizione del muro in parte, in modo che è anche meno pericoloso che è visibile dall'esterno. Sarà un grosso, un risultato importante per il quartiere, perché loro hanno tanti problemi di parcheggio per i pendolari. L'essi pendolari ne hanno a sufficienza perché hanno sia quello della stazione che abbiamo inaugurato poco tempo fa, sia questo. E quindi anche i residenti potranno parcheggiare qua dentro, magari potremo restituire fuori, possiamo mettere il disco orario, in modo che avranno una maggiore circolazione di veicoli durante la sosta. Quindi il quartiere mi aveva chiesto espressamente questo con il senato sindaco, sono contento di averglielo dato. Un regalo di Natale per il quartiere e per i pendolari dunque, ma anche una sfida indiretta al capoluogo. Se Varese ha visto aumentare a dismisura gli scranni blu, cioè a pagamento, Bustarsizio preferisce colorarsi di bianco, cioè di gratuità. Non so anche quale città in Italia vicino alla stazione hanno tutti questi parcheggi gratuiti. Questa mattina al Teatro Sociale di Bustarsizio la premiazione degli studenti vincitori del concorso indetto dal gruppo AGESP in occasione dei 70 anni di attività. Quest'anno noi festeggiamo i nostri 70 anni e sono 70 anni che sono stati 70 anni intensi di grandi attività. Siamo arrivati però a un punto di svolta, il quadro normativo di riferimento è radicalmente cambiato e quindi per noi rappresenta proprio un momento di stacco, un momento di confine perché nel 2028, cioè tra dieci anni, quando andremo a festeggiare il prossimo decennale, l'AGESP di oggi non sarà più l'AGESP del futuro. Così il direttore Gianfranco Carraro spiega la scelta del titolo Borderline per il concorso destinato agli studenti per il settantesimo anniversario del gruppo AGESP. Un coinvolgimento, quello delle scuole, già avvenuto dieci anni fa in occasione del precedente compleanno a Cifra Tonda e che stavolta ha visto le votazioni avvenire via Facebook. Segno anche questo dei tempi che cambiano, così come le tematiche scelte per i messaggi di sensibilizzazione elaborati dagli studenti, ossia la salvaguardia dell'ambiente per i più piccoli e la lotta al bullismo e al vandalismo per i più grandicelli. Sul palco del Teatro Sociale di Buster Sizio, tra i vincitori, la seconda B della scuola secondaria di primo grado Crespi, la seconda D della primaria Tommaseo, la terza B della primaria da Negri e la quarta D e quinta A delle Tommaseo. È stato presentato questa mattina nella sede della Fondazione Comunitaria del Varesotto un nuovo libro del Circolo degli Artisti di Varese, un'opera per guardare il territorio con occhi diversi. È il secondo volume del fascino discreto di una provincia chiamata Varese ed è un'opera che intende mettere in luce la bellezza dei luoghi, la magia dell'arte e le proposte degli artisti per il territorio varesino. Ideatore del progetto è Antonio Bandirali, presidente del Circolo degli Artisti. Questo è il secondo volume che esce del Circolo degli Artisti che vuole esaltare i paesi diciamo, i 139 comuni che esistono nella provincia di Varese. Lo scopo è quello di far conoscere queste piccole realtà che sono 139, ma sono delle piccole chicche che ognuno di questi paesi ha e nasconde e sarebbe bello andare a visitare. L'idea è che gli artisti hanno interpretato questo paese come se fosse una guida turistica e cercano di dare ad ogni località uno spunto di arredo urbano, storico o paesaggistico. La creatività dei nostri artisti, del Circolo degli Artisti e di altri artisti varesini ha interpretato con emotività e con ricchezza di temi, tematiche, questo soggetto. Importantissimo perché ci sono stati 139 comuni trattati artisticamente nella loro peculiarità culturale e artistica, interventi virtuali molto importanti e quindi è stata un'impresa colossale, molto unica nel suo genere, mai esistita prima. Non solo c'è la parte paesaggistica, c'è la parte artistica che in un certo senso è stata messa in evidenza ma ci sono anche dei particolari, degli aneddoti così che forse non sono così strettamente conosciuti dalla maggioranza dei nostri cittadini. È stata fatta una ricerca sulla storia dei comuni, sulla derivazione dei nomi dei comuni per cui è anche particolare andare a leggere queste particolarità della zona e la parte invece prettamente artistica in cui gli artisti si sono presentati e hanno presentato dei progetti dei progetti sul patrimonio attuale della zona, installando anche delle sculture, delle installazioni, proponendo degli affreschi. La Fondazione Comunitaria del Varesotto anche in questo caso vuole essere vicina a delle manifestazioni culturali di grandissimo livello. Potrete vedere il volume e senz'altro constaterete che valeva la pena di impegnarsi da parte del Circo degli Artisti, anche con il sostegno della Fondazione di Tanti Enti, per il risultato che è stato ottenuto a favore della comunità. Riccardo Limoli arriva a Busto Arsizio con uno spettacolo dedicato alla sua vita rigorosamente in chiave comica. Appuntamento questa sera sul palco del San Giovanni Bosco. Un lungo viaggio di ritorno verso casa dal nord al sud, un viaggio fatto di sogni già realizzati ma anche di nuovi obiettivi. È il viaggio che Riccardo Limoli, comico di origini siciliane, porta sul palcoscenico del Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio il 14 dicembre. Trasferitosi a Samarate, a pochi passi dall'ex caffè teatro di Maurizio Castiglioni ben 17 anni fa, Riccardo è cresciuto in Lombardia a pane e cabaret. Sul palco bustocco l'artista racconta la sua vita e i suoi traguardi. Lo spettacolo, intitolato Arrivederci Nord, è stato scritto insieme a Diego Caglielli e Alessio Tagliento e ha un solo grande obiettivo farvi ridere. È un po' un viaggio autobiografico ma anche nostalgico, cioè praticamente si vanno a ricercare tutte le varie esperienze che ho avuto qui al nord e poi anche in pregresso e insomma è un viaggio di andata senza ritorno a quanto pare. Io sono rimasto qui, sono venuto qui 17 anni fa, ho scoperto il caffè teatro, sono stato accolto, in qualche modo adottato da Maurizio Castiglioni e dopo tanti anni di laboratori, insomma di cose che abbiamo fatto insieme abbiamo deciso poi di collaborare con questi autori per questo spettacolo. Arrivederci Nord! Dunque ricordiamo le coordinate, per vederti quando e dove? Le coordinate sono facilissime, Bustarsizio, Teatro San Giovanni Bosco, Via Bergamo, ore 21, mi raccomando, mi raccomando. Ieri sera Basilica di San Giovanni Gremita a Bustarsizio per il tradizionale concerto di Natale della città, ve ne proponiamo uno stralcio. San Giovanni Gremita a Bustarsizio, Teatro San Giovanni Gremita a Bustarsizio per il San Giovanni Gremita a Bustarsizio, Teatro San Giovanni Gremita a Bustarsizio, Teatro San Giovanni Gremita a Bustarsizio per il San Giovanni Gremita a Bustarsizio per il Grazie a tutti. Per il momento è tutto, ci vediamo tra poco con la pagina sportiva.